Francesco Lo Schiavo, presidente della Federazione Italiana Vela Quinta Zona, è partito qui a Torre del Greco un progetto insieme a Vela senza barriere, di che cosa si tratta? Sì, è un progetto promosso dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Sport e Salute a cui la FIV Campania ha partecipato ed è stato approvato. È un'iniziativa finalizzata a portare a mare dei ragazzi, dei giovani ragazzi tra 10 e 17 anni senza barriere, anche senza barriere economiche. Noi stiamo offrendo ai ragazzi di Torre del Greco un vero e proprio corso di vela, un modo per avvicinare a questo sport i ragazzi di Torre del Greco che da sempre è una capitale della nautica campana, un luogo in cui la cultura marinara va rafforzata e con la federazione, con il patrocino del comune e con le associazioni del territorio stiamo cercando proprio di muoverci in questa direzione. I partner di questo progetto sono i due circoli FIV della città, cioè il circolo nautico Torre del Greco che ci ospita e la lega navale di Torre del Greco. Con loro porteremo in acqua questi ragazzi che affronteranno un'esperienza, un'esperienza avvincente che gli consenterà un domani di arricchire l'esperienza, di confrontarsi con altri ragazzi e speriamo di vederli regatare quanto prima nelle acque dei campi di regata campani. Quali sono le altre attività che la federazione italiana vela in questo territorio porta avanti? In campani la federazione italiana vela porta avanti il sistema velico campano inteso come promozione, come organizzazione sportiva, come formazione. È uno sport che appassiona molto i giovani? È uno sport che appassiona molto i giovani. Diciamo che in campania abbiamo una vela agonistica giovanile che coinvolge circa 300 ragazzi nelle varie classi veliche e molti di questi ragazzi sono protagonisti in Italia nei campioni italiani. Non potevamo che sposare da subito questo progetto che include, ecco, Sendo il piacere e il dovere di ringraziare il presidente della federazione vela, il dottor Lo Schiavo e la coordinatrice dell'associazione Alibelula che sta portando avanti questo progetto. Cosa fa l'amministrazione comunale per avvicinare i giovani allo sport a 360 gradi? Qualche settimana fa l'amministrazione ha dato già un forte segnale per la disponibilità allo sport, mi riferisco specificamente al calcio, con la convenzione e l'affidamento dello stadio a Liguria, alla Turris. Finalmente possiamo dire di poter fare un buon calcio, sempre Covid permettendo. Noi ci auguriamo che a settembre possiamo ritornare tutti allo stadio per poter esultare con la nostra squadra del cuore che è la Turris. Riguardo la vela, una città di mare come la nostra non può che avere un'attività del genere e ospitare una federazione così importante. È un progetto importantissimo perché coinvolge il circolo nautico come struttura sportiva che da anni, ormai sono più di 60 anni, che portiamo avanti lo sport a Torre del Greco e non solo lo sport ma anche e soprattutto le attività nel sociale. È fondamentale perché si dà la possibilità a tanti bambini o ragazzi, perché l'età è varia, si parte dai 7 anni per arrivare a 14-15 anni, in pratica anche chi non ha disponibilità può affrontare e avvicinarsi a questo sport. A proposito di impegno per il sociale c'è una novità proprio di questi giorni che riguarda questo circolo nautico. Abbiamo realizzato insieme ad altri 13 club della campagna molto importanti partendo dalla lontana Sapri fino ad arrivare a Monte di Procida, a Ciaroli, Salerno e anche i club più importanti centenari, tipo il Posillipo piuttosto che l'Irno di Salerno, sono coinvolti in questa associazione che si chiama denominata Associazione Circoli Nautici della Campagna. E con questo progetto è partita come proposta di legge, quindi è la legge che riconosce finalmente i circoli nautici della campagna. Speriamo di riuscire a fare rete e poi fondamentalmente questa rete riconosciuta dalla regione campagna ci potrà dare una maggiore spinta per spingere ancora di più nello sport, che è una cosa fondamentale che si ha per i giovani, per portarli via da altre problematiche. Lo sport in pratica è il collante per una buona vita, per una sana vita. Sport è inclusione, inclusioni perché no? Anche vela deve essere necessariamente inclusione. Si è cercato appunto di dare un'impronta di integrazione sociale magari a quelle famiglie disagiate che vedono nella vela uno sport quasi irraggiungibile e bisogna sfatare questo mito. Invece no, ci sono dei ragazzi che ovviamente hanno aderito a questo progetto mediante la mia associazione e abbiamo deciso anche di includere magari anche la fascia disabili, almeno compatibilmente con quella che è la disciplina e per cercare proprio di far sì di donare un sorriso a tutti, indistintamente, senza alcuna discriminazione o pregiudizio. Quanti ragazzi parteciperanno? Ci sono 27 allievi che sono stati appunto reclutati, sia confrontandomi con delle associazioni sul territorio che in effetti trattavano anche la tematica dei minori a rischio. Mi sono interfacciata con dei centri terapeutici che mi hanno appunto menzionato quali fossero i ragazzi con determinate disabilità accessibili a questo tipo di sport e alla fine abbiamo reclutato 27 allievi che hanno preso parte a questo progetto e perché no, magari vorranno proseguire e questo era lo scopo.